Studi internazionali dimostrano che la mancanza di equilibrio e stabilità causano il 95% dei dolori alla schiena e ai piedi. Sì, ho dolori alla schiena, i classici segni dell'età, fastidio ai piedi, piedi gonfi, dolore nel camminare. Ho l'artrosi alle ginocchia, dovevo camminare con le stampelle. Avevo dolori dappertutto, soprattutto quando dovevo stare in piedi a lungo. Ho dei dolori dall'operazione al menisco di due anni fa. Dolore alla schiena e gambe gonfie. Da quando ho indossato queste calze la prima volta, non ho più avuto dolori. Mi sento davvero piena di energia. Il dolore è quasi sparito. Mi sento bene, senza operazioni né dannosi medicinali. Mi sento più centrato, più forte. Se solo potessi stare così per i prossimi vent'anni. Per cosa queste persone sono così entusiaste? È molto semplice. Hanno provato le incredibili Vox Life Neuro Socks. Le calze intelligenti per il benessere, che migliorano sensibilmente l'equilibrio e la stabilità, a partire dal primo utilizzo. Grazie alle Neuro Socks, sentirai il tuo corpo in modo completamente diverso. Perfettamente in equilibrio. Con più forza. Sentirai la gioia di muoverti. Dopo aver reso felici oltre 4 milioni di clienti, finalmente Vox Life è disponibile in Italia, per scrivere una nuova e fantastica storia di successo. Ora ve la raccontiamo. Volkang, ci racconti com'è andata la tua esperienza con le Vox Life Neuro Socks? Un giorno ho iniziato ad avere questo disturbo fastidioso. È successo mentre dormivo. È il cuore della notte. Un dolore intenso al piede destro che... mi rendeva difficile persino camminare. In quel periodo mi trovavo all'estero. Dovevo partecipare a una fiera il giorno seguente. E ho pensato, per l'amor del cielo, non è il momento. Ma avevo preso queste calze. Le ho indossate durante la notte ed è stato abbastanza sorprendente. Perché il mattino dopo il mio piede era tornato come prima. Ho potuto andare alla fiera e ho pensato, queste calze sono magiche. Posso davvero dirlo. Sarei felice di stare bene come oggi, per i prossimi 20 anni. Qual è la sua esperienza con le Vox Life Neuro Socks? Mi sono rotta il piede perché ho voluto fare la ragazzina. Volevo dimostrare a mio nipote che la nonna era ancora in grado di pattinare. Ma, sorpresa, ho rotto il piede. Sono rimasta in ospedale per 14 giorni. Ho subito un intervento con protesi. E da lì sono iniziati i problemi. Dolore alle gambe, piedi gonfi. Riuscivo a fare pochi passi alla volta. Poi arriva il Natale e mio figlio mi regala queste calze. Ero davvero scettica delle calze. All'inizio sembravano non funzionare. Sì, ci sono voluti diversi giorni prima di notare i primi miglioramenti. Ma poi ho iniziato a camminare più a lungo. I miei piedi non erano più gonfi. Il dolore è diminuito. E allora ne ho ordinato un altro paio e ne sono assolutamente soddisfatta. Ora va molto meglio e mi sento con molta più energia. Sono grata a mio figlio. Senza di lui non avrei mai scoperto queste calze. Fantastiche! Sono Wolfgang Kropschoffer e sono un dottore e direttore di questa clinica. Qui siamo specializzati nel trattamento conservativo dell'ernia del disco. Come potete vedere, questa paziente ha il flessore accorciato, il che capita alle persone che restano troppo a lungo sedute. Camminando per 2-3 chilometri, i nuclei dei dischi spinali si comprimono e pochi passi dopo si decomprimono. Questa interazione via osmosi permette ai dischi di catturare i nutrimenti come una spugna. Ecco perché camminare è così importante per la salute. Ed è ancora meglio se si usano queste calze, che aiutano il mantenimento dell'omeostasi tramite i nocicettori. Non c'è dubbio. Camminare e indossare queste calze sono la cosa migliore che si può fare. Perché le Neurosox sono così efficaci? È grazie alla loro trama brevettata Neurotech, applicata sulla parte della pianta del piede. È il risultato di sei anni di ricerca. L'efficacia delle Neurosox è stata testata per la cura del dolore ai piedi su un campione di mille persone, che si trovavano in delle cliniche riabilitative. Grazie alla loro innovativa tecnologia, la trama speciale delle Neurosox va a colpire i ricettori che si trovano nel piede, portando immediatamente il corpo in equilibrio. Le Neurosox migliorano e supportano la stabilità e la mobilità di ognuno, per tutto il tempo di utilizzo. Ed ecco cosa le rende davvero speciali. Le Vox Life Neurosox sono le calze intelligenti per il tuo benessere, studiate per rendere la tua vita migliore con il massimo comfort, soft touch per un supporto ottimale, tessuto antibatterico e antiodore, tallone antiscivolo, rinforzo plantare per maggior stabilità e trama Neurotech per migliorare l'equilibrio. Un corpo in equilibrio significa più benessere e una pronta guarigione. Le Neurosox possono aiutarti ad aumentare la mobilità, a ridurre il dolore e a migliorare la qualità della tua vita. Le Vox Life Neurosox sono efficaci fin dal primo uso e per tutto il tempo che le indossi, il che significa fino a 24 ore al giorno. Continuerai a provare benefici giorno dopo giorno. Migliora la qualità della tua vita grazie alle Vox Life Neurosox, le calze intelligenti per il tuo benessere. Chiama ora per le incredibili Vox Life Neurosox con la trama brevettata Neurotech. Per un corpo in equilibrio, per il massimo comfort, per un supporto ottimale. Pensa a quanto hai già speso in dolorosi massaggi, terapie con effetti limitati e a breve termine, farmaci costosi e con effetti collaterali. 200, 500, 1000 euro, forse di più? Vox Life Neurosox è la tua chance, la soluzione innovativa che migliorerà la qualità della tua vita. Chiama ora per riceverla all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione. Provala tu stesso, senza impegno! Le Neurosox sono coperte dalla nostra speciale garanzia soddisfatti o rimborsati. Puoi solo guadagnare, non rischi nulla. Non perdere questa occasione. Chiama ora! Cosa aspetti? Migliora la tua mobilità, il tuo equilibrio e la tua stabilità con Vox Life Neurosox, le calze intelligenti per il tuo benessere. Ma attenzione! Prendere la linea in questo momento potrebbe non essere semplice a causa dell'elevato numero di chiamate. E allora, chiama subito! O ordina online sul sito ultimiarrivi.com. Approfitta di questa fantastica offerta e ricevi oggi a casa tua le incredibili Vox Life Neurosox, le calze intelligenti per il tuo benessere. Cosa aspetti? Chiama ora o vai sul sito ultimiarrivi.com. Buongiorno Silvia. Lei a 73 anni ha provato qualcosa di davvero incredibile con le Vox Life Neurosox. Beh sì, ho l'artrosi alle ginocchia ed ero costretta a camminare con le stampelle. Stavo pensando alla chirurgia. Poi sono stata a questa fiera e mi hanno consigliato di visitare uno stand. Perché lì potevano essere in grado di aiutarmi con delle calze. Io non ci credevo. Prendevo antidolorifici tre volte al giorno. Pensavo, cosa vuoi che mi facciano delle calze? Ho deciso comunque di provare e dopo 20 minuti la sensazione di bruciore era sparita. Il dolore era ancora lì ma quella fastidiosa sensazione era andata via. Così ho pensato, oh bene e allora ho continuato ad usarle. E in una settimana mi sono liberata delle stampelle. Dopo due anni e mezzo il risultato è incredibile. Sto bene. Non prendo più farmaci e non ho avuto bisogno di un intervento chirurgico. Se non uso le calze, il dolore alle ginocchia torna. Ciao, sono Bettina Hauser e ho sentito molto parlare delle Vox Life Neuro Socks. Da un po' ho dei problemi alla schiena. I miei muscoli sono sempre in tensione e ho dei dolori che vanno dalle spalle alle braccia. Faccio fatica a dormire. Quando mi sveglio sono molto stanca. Ho provato a risolvere in molti modi facendo sport, praticando lo yoga, lo stretching ma senza risultato. Come dicevo, ho sentito molte cose positive sulle Neuro Socks tanto che ho deciso di ordinarle. Le ho appena ricevute e guardate, ecco come si presentano. Hanno su buona parte della superficie una trama particolare che dovrebbe avere un grandioso effetto benefico sul corpo non so esattamente come e non vedo l'ora di scoprirlo. Da oggi in avanti le indosserò ogni giorno e anche la notte per testarne su di me l'efficacia e vedremo come va. Mi chiamo Christian Redl e sono il detentore del record mondiale di apnea da dieci anni. Alla nascita mi hanno diagnosticato una malposizione del piede e nel mio caso i miei piedi non sono cresciuti correttamente in lunghezza crescendo in altezza. Questo ha causato inevitabili fastidi alle ginocchia dolori all'anca e alla schiena. Miei genitori mi hanno mandato da diversi terapisti abbiamo cercato delle soluzioni ma non è stato possibile fare molto. Poi un caro amico mi ha parlato delle Neuro Socks e mi sono detto perché non tentare, all'inizio ero incredulo ma dalla prima volta che le ho messe mi sono sentito meglio e questo è stato solo il primo miglioramento. Oggi non ho più dolori alle ginocchia niente dolori all'anca e alla schiena ho iniziato a camminare più dritto non potevo credere a quello che stava succedendo riuscivo a camminare senza avere problemi di equilibrio piano piano sono stato sempre meglio la questione è che non mi spiego come sia possibile come funzionino so solo che da quando le indosso ogni giorno il dolore è sparito e non c'è niente di meglio per qualcuno che ha sperimentato cosa significa provare dolore ogni giorno della propria vita. Ho giocato a tennis per più di 30 anni ma ora ho iniziato ad avere i segni tipici dell'età soprattutto un forte dolore alle spalle specialmente durante la notte che mi rendeva difficile dormire finché non ho scoperto queste fantastiche calze sono davvero fenomenali le ho indossate e dopo solo poche ore ho iniziato a sentirne l'effetto e in breve tutto il dolore è passato se sei stato un atleta sai che è la cosa migliore che possa capitarti e poi sento di avere più energia mi sento rigenerata il che è davvero fantastico davvero, sì Ciao, lui è Julian Schell e io sono Niklas Schell entrambi siamo ciclisti professionisti di mountain bike dello Stop & Go Mother nel MTB Team e sono tre mesi che corriamo con le Neurosocks per te Julian, cosa è cambiato da quando indossi queste calze? Soprattutto all'inizio della corsa avevo sempre crampi ai piedi nelle lunghe discese e nei passaggi difficili da quando corro con questi calzini non ho più alcun fastidio e questo potrebbe essere un fattore decisivo per vincere una gara Ciao, volevo solo aggiornarti oggi sono tre settimane che indosso le Neurosocks e devo dire che non me ne accorgo neanche più non le sento perché ormai fanno parte della mia vita quotidiana ma in compenso mi sento molto meglio riesco a dormire di più e la mia schiena sta iniziando a rilassarsi le mie spalle non sono più rigide come prima di giorno è come se il mio livello di energia giornaliero fosse aumentato del 100% e sento il mio corpo più in equilibrio sono davvero sorpresa e stupita non me lo sarei mai aspettato e per questo continuerò ad indossare le mie calze sono davvero fantastiche le Vox Life Neurosocks sono le calze intelligenti per il tuo benessere studiate per rendere la tua vita migliore con il massimo comfort soft touch per un supporto ottimale tessuto antibatterico e antiodore tallone antiscivolo rinforzo plantare per maggior stabilità e trama Neurotech per migliorare l'equilibrio ma cosa rende le Vox Life Neurosocks così speciali rispetto alle normali calze? ascoltiamo mi sento davvero piena di energia il dolore è quasi sparito mi sento bene e senza chirurgie o dannosi medicinali proprio così solo le Vox Life Neurosocks hanno la trama brevettata Neurotech che riporta immediatamente l'intero corpo in equilibrio sviluppata in anni di ricerca e testata scientificamente su un campione di mille persone questa trama migliora la stabilità e l'equilibrio migliorando la mobilità e l'agilità di chi la utilizza aiuta così il tuo corpo a guarire da solo e quindi a ridurre il dolore rendendolo più attivo le Vox Life Neurosocks sono efficaci fin dal primo uso e per tutto il tempo che le indossi il che significa fino a 24 ore al giorno continuerai a provare benefici giorno dopo giorno migliora la qualità della tua vita grazie alle Vox Life Neurosocks le calze intelligenti per il tuo benessere chiama ora per le incredibili Vox Life Neurosocks con la trama brevettata Neurotech per un corpo in equilibrio per il massimo comfort per un supporto ottimale pensa a quanto hai già speso in dolorosi massaggi terapie con effetti limitati e a breve termine farmaci costosi e con effetti collaterali 200, 500, 1000 euro forse di più? Vox Life Neurosocks è la tua chance la soluzione innovativa che migliorerà la qualità della tua vita chiama ora per riceverla all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione provala tu stesso, senza impegno le Neurosocks sono coperte dalla nostra speciale garanzia soddisfatti o rimborsati puoi solo guadagnare, non rischi nulla non perdere questa occasione chiama ora cosa aspetti? migliora la tua mobilità il tuo equilibrio e la tua stabilità con Vox Life Neurosocks le calze intelligenti per il tuo benessere ma attenzione prendere la linea in questo momento potrebbe non essere semplice a causa dell'elevato numero di chiamate e allora chiama subito o ordina online sul sito ultimiarrivi.com approfitta di questa fantastica offerta e ricevi oggi a casa tua le incredibili Vox Life Neurosocks le calze intelligenti per il tuo benessere cosa aspetti? chiama ora o vai sul sito ultimiarrivi.com ciao, eccomi con un nuovo aggiornamento indosso le Neurosocks ormai da tre mesi le ho lavate molto molto spesso ma devo dire che non si sono per niente rovinate sono esattamente come il giorno in cui le ho ricevute diversamente dalla mia schiena che ha fatto un cambiamento radicale non ci crederete ma tutti i dolori sono completamente spariti sono ancora così sbalordita e sorpresa per gli effetti che questo paio di calze hanno avuto sul mio corpo ho ricominciato a dormire e quando mi sveglio sono riposata è come se la mia schiena non avesse mai avuto problemi di tensione muscolare e ne sono elettrizzata molte persone lo hanno notato e hanno visto che sto molto meglio è come se camminassi su una nuvoletta e non riesco ancora a crederci devi assolutamente provarle, davvero queste calze ora sono parte integrante della mia vita e le posso consigliare senza alcun dubbio sono davvero felice studi internazionali dimostrano che la mancanza di equilibrio e stabilità causano il 95% dei dolori alla schiena e ai piedi sì, ho dolori alla schiena, i classici segni dell'età fastidio ai piedi, piedi gonfi, dolore nel camminare ho l'artrosi alle ginocchia, dovevo camminare con le stampelle avevo dolori dappertutto, soprattutto quando dovevo stare in piedi a lungo ho dei dolori dall'operazione al menisco di due anni fa dolore alla schiena e gambe gonfie da quando ho indossato queste calze la prima volta non ho più avuto dolori mi sento davvero piena di energia il dolore è quasi sparito mi sento bene, senza operazioni né dannosi medicinali mi sento più centrato, più forte se solo potessi stare così per i prossimi vent'anni per cosa queste persone sono così entusiaste? è molto semplice hanno provato le incredibili Vox Life Neurosox le calze intelligenti per il benessere che migliorano sensibilmente l'equilibrio e la stabilità a partire dal primo utilizzo grazie alle Neurosox sentirai il tuo corpo in modo completamente diverso perfettamente in equilibrio con più forza sentirei la gioia di muoverti dopo aver reso felici oltre 4 milioni di clienti finalmente Vox Life è disponibile in Italia per scrivere una nuova e fantastica storia di successo ora ve la raccontiamo Volkang, ci racconti come è andata la tua esperienza con le Vox Life Neurosox? un giorno ho iniziato ad avere questo disturbo fastidioso è successo mentre dormivo è il cuore della notte un dolore intenso al piede destro che... mi rendeva difficile persino... camminare in quel periodo mi trovavo all'estero dovevo partecipare a una fiera il giorno seguente e ho pensato per l'amor del cielo non è il momento ma avevo preso queste calze le ho indossate durante la notte ed è stato abbastanza sorprendente perché il mattino dopo il mio piede era tornato come prima ho potuto andare alla fiera e ho pensato queste calze sono magiche posso davvero dirlo sarei felice di stare bene come oggi per i prossimi 20 anni qual è la sua esperienza con le Vox Life Neurosox? mi sono rotta il piede perché ho voluto fare la ragazzina volevo dimostrare a mio nipote che la nonna era ancora in grado di pattinare ma... sorpresa... ho rotto il piede sono rimasta in ospedale per 14 giorni ho subito un intervento con protesi e da lì sono iniziati i problemi dolore alle gambe piedi gonfi riuscivo a fare pochi passi alla volta poi arriva il Natale e mio figlio mi regala queste calze ero davvero scettica delle calze all'inizio sembravano non funzionare sì, ci sono voluti diversi giorni prima di notare i primi miglioramenti ma poi ho iniziato a camminare più a lungo i miei piedi non erano più gonfi il dolore è diminuito e allora ne ho ordinato un altro paio e ne sono assolutamente soddisfatta ora va molto meglio e mi sento con molta più energia sono grata a mio figlio senza di lui non avrei mai scoperto queste calze fantastiche sono Wolfgang Kropschhofer e sono un dottore e direttore di questa clinica qui siamo specializzati nel trattamento conservativo dell'ernia del disco come potete vedere questa paziente ha il flessore accorciato il che capita alle persone che restano troppo a lungo sedute camminando per 2-3 km i nuclei dei dischi spinali si comprimono e pochi passi dopo si decomprimono questa interazione via osmosi permette ai dischi di catturare i nutrimenti come una spugna ecco perché camminare è così importante per la salute ed è ancora meglio se si usano queste calze che aiutano il mantenimento dell'omeostasi tramite i nocicettori non c'è dubbio camminare e indossare queste calze sono la cosa migliore che si può fare perché le Neurosox sono così efficaci? è grazie alla loro trama brevettata Neurotech applicata sulla parte della pianta del piede è il risultato di 6 anni di ricerca l'efficacia delle Neurosox è stata testata per la cura del dolore ai piedi su un campione di mille persone che si trovavano in delle cliniche riabilitative grazie alla loro innovativa tecnologia la trama speciale delle Neurosox va a colpire i ricettori che si trovano nel piede portando immediatamente il corpo in equilibrio le Neurosox migliorano e supportano la stabilità e la mobilità di ognuno per tutto il tempo di utilizzo ed ecco cosa le rende davvero speciali un corpo in equilibrio significa più benessere e una pronta guarigione le Neurosox possono aiutarti ad aumentare la mobilità a ridurre il dolore e a migliorare la qualità della tua vita le Vox Life Neurosox sono le calze intelligenti per il tuo benessere studiate per rendere la tua vita migliore con il massimo comfort soft touch per un supporto ottimale tessuto antibatterico e antiodore tallone antiscivolo rinforzo plantare per maggior stabilità e trama Neurotech per migliorare l'equilibrio le Vox Life Neurosox sono efficaci fin dal primo uso e per tutto il tempo che le indossi il che significa fino a 24 ore al giorno continuerai a provare benefici giorno dopo giorno migliora la qualità della tua vita grazie alle Vox Life Neurosox le calze intelligenti per il tuo benessere chiama ora per le incredibili Vox Life Neurosox con la trama brevettata Neurotech per un corpo in equilibrio per il massimo comfort per un supporto ottimale pensa a quanto hai già speso in dolorosi massaggi terapie con effetti limitati e a breve termine farmaci costosi e con effetti collaterali 200, 500, 1000 euro forse di più Vox Life Neurosox è la tua chance la soluzione innovativa che migliorerà la qualità della tua vita chiama ora per riceverla all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione provala tu stesso senza impegno le Neurosox sono coperte dalla nostra speciale garanzia soddisfatti o rimborsati puoi solo guadagnare non rischi nulla non perdere questa occasione chiama ora cosa aspetti? migliora la tua mobilità il tuo equilibrio e la tua stabilità con Vox Life Neurosox le calze intelligenti per il tuo benessere ma attenzione prendere la linea in questo momento potrebbe non essere semplice a causa dell'elevato numero di chiamate e allora chiama subito o ordina online sul sito ultimiarrivi.com approfitta di questa fantastica offerta e ricevi oggi a casa tua le incredibili Vox Life Neurosox le calze intelligenti per il tuo benessere cosa aspetti? chiama ora o vai sul sito ultimiarrivi.com ciao Stanley tu passi molto tempo seduto al computer sono uno sviluppatore e passo facilmente 10-12 ore davanti al computer raccontaci la tua esperienza con le Vox Life Neurosox beh probabilmente un'esperienza diversa non ha niente a che fare con la tensione muscolare o il mal di schiena il mio problema è che quando lavoravo 10-12 ore bevevo due o tre energy drink perché dopo un po' ero stanco poi mi hanno parlato di queste calze che dovrebbero aiutarti a recuperare energia mi sembrava una cosa totalmente folle quando le ho provate la prima volta sono tornato a casa verso le due o le tre del mattino non avevo mai provato niente di simile niente energy drink solo un paio di calze devo dire che ne sono davvero entusiasta le sta indossando? oh sì sono sempre con me le Vox Life Neurosox buongiorno Silvia lei a 73 anni ha provato qualcosa di davvero incredibile con le Vox Life Neurosox beh sì ho l'artrosi alle ginocchia ed ero costretta a camminare con le stampelle stavo pensando alla chirurgia poi sono stata a questa fiera e mi hanno consigliato di visitare uno stand perché lì potevano essere in grado di aiutarmi con delle calze io non ci credevo prendevo antidolorifici tre volte al giorno pensavo cosa vuoi che mi facciano delle calze? ho deciso comunque di provare dopo 20 minuti la sensazione di bruciore era sparita il dolore era ancora lì ma quella fastidiosa sensazione era andata via così ho pensato oh bene e allora ho continuato ad usarle e in una settimana mi sono liberata delle stampelle dopo due anni e mezzo il risultato è incredibile sto bene non prendo più farmaci e non ho avuto bisogno di un intervento chirurgico se non uso le calze il dolore alle ginocchia torna mi chiamo Christian Redl e sono il detentore del record mondiale di apnea da 10 anni alla nascita mi hanno diagnosticato una malposizione del piede nel mio caso i miei piedi non sono cresciuti correttamente in lunghezza crescendo in altezza questo ha causato inevitabili fastidi alle ginocchia dolori all'anca e alla schiena miei genitori mi hanno mandato da diversi terapisti abbiamo cercato delle soluzioni ma non è stato possibile fare molto poi un caro amico mi ha parlato delle neuro socks e mi sono detto perché non tentare all'inizio ero incredulo ma dalla prima volta che le ho messe mi sono sentito meglio e questo è stato solo il primo miglioramento oggi non ho più dolori alle ginocchia niente dolori all'anca e alla schiena ho iniziato a camminare più dritto non potevo credere a quello che stava succedendo riuscivo a camminare senza avere problemi di equilibrio piano piano sono stato sempre meglio la questione è che non mi spiego come sia possibile come funzionino so solo che da quando le indosso ogni giorno il dolore è sparito e non c'è niente di meglio per qualcuno che ha sperimentato cosa significa provare dolore ogni giorno della propria vita ho giocato a tennis per più di 30 anni ma ora ho iniziato ad avere i segni tipici dell'età soprattutto un forte dolore alle spalle specialmente durante la notte che mi rendeva difficile dormire finché non ho scoperto queste fantastiche calze sono davvero fenomenali le ho indossate e dopo solo poche ore ho iniziato a sentirne l'effetto e in breve tutto il dolore è passato se sei stato un atleta sai che è la cosa migliore che possa capitarti e poi sento di avere più energia mi sento rigenerata il che è davvero fantastico davvero ciao lui è Julian Schell e io sono Niklas Schell entrambi siamo ciclisti professionisti di mountain bike dello Stop & Go Mother nel MTB Team e sono tre mesi che corriamo con le Neuro Socks per te Julian cosa è cambiato da quando indossi queste calze? soprattutto all'inizio della corsa avevo sempre crampi ai piedi nelle lunghe discese e nei passaggi difficili da quando corro con questi calzini non ho più alcun fastidio e questo potrebbe essere un fattore decisivo per vincere una gara ciao eccomi con un nuovo aggiornamento indosso le Neuro Socks ormai da tre mesi le ho lavate molto molto spesso ma devo dire che non si sono per niente rovinate sono esattamente come il giorno in cui le ho ricevute diversamente dalla mia schiena che ha fatto un cambiamento radicale non ci crederete ma tutti i dolori sono completamente spariti sono ancora così sbalordita e sorpresa per gli effetti che questo paio di calze hanno avuto sul mio corpo ho ricominciato a dormire e quando mi sveglio sono riposata è come se la mia schiena non avesse mai avuto problemi di tensione muscolare ne sono elettrizzata molte persone lo hanno notato e hanno visto che sto molto meglio è come se camminassi su una nuvoletta e non riesco ancora a crederci devi assolutamente provarle davvero queste calze ora sono parte integrante della mia vita e le posso consigliare senza alcun dubbio le Vox Life Neuro Socks sono le calze intelligenti per il tuo benessere studiate per rendere la tua vita migliore con il massimo comfort soft touch per un supporto ottimale tessuto antibatterico e anti odore tallone antiscivolo rinforzo plantare per maggior stabilità e trama Neurotech per migliorare l'equilibrio ma cosa rende le Vox Life Neuro Socks così speciali rispetto alle normali calze? ascoltiamo mi sento davvero piena di energia il dolore è quasi sparito mi sento bene e senza chirurgie o dannosi medicinali proprio così solo le Vox Life Neuro Socks hanno la trama brevettata Neurotech che riporta immediatamente l'intero corpo in equilibrio sviluppata in anni di ricerca e testata scientificamente su un campione di mille persone questa trama migliora la stabilità e l'equilibrio migliorando la mobilità e l'agilità di chi la utilizza aiuta così il tuo corpo a guarire da solo e quindi a ridurre il dolore rendendolo più attivo le Vox Life Neuro Socks sono efficaci fin dal primo uso e per tutto il tempo che le indossi il che significa fino a 24 ore al giorno continuerai a provare benefici giorno dopo giorno migliora la qualità della tua vita grazie alle Vox Life Neuro Socks le calze intelligenti per il tuo benessere chiama ora per le incredibili Vox Life Neuro Socks con la trama brevettata Neurotech per un corpo in equilibrio per il massimo comfort per un supporto ottimale pensa a quanto hai già speso in dolorosi massaggi terapie con effetti limitati e a breve termine farmaci costosi e con effetti collaterali 200, 500, 1000 euro forse di più? Vox Life Neuro Socks è la tua chance la soluzione innovativa che migliorerà la qualità della tua vita chiama ora per riceverla all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione provala tu stesso, senza impegno le Neuro Socks sono coperte dalla nostra speciale garanzia soddisfatti o rimborsati puoi solo guadagnare, non rischi nulla non perdere questa occasione chiama ora cosa aspetti? migliora la tua mobilità il tuo equilibrio e la tua stabilità con Vox Life Neuro Socks le calze intelligenti per il tuo benessere ma attenzione prendere la linea in questo momento potrebbe non essere semplice a causa dell'elevato numero di chiamate e allora chiama subito o ordina online sul sito ultimiarrivi.com approfitta di questa fantastica offerta e ricevi oggi a casa tua le incredibili Vox Life Neuro Socks le calze intelligenti per il tuo benessere cosa aspetti? chiama ora o vai sul sito ultimiarrivi.com grazie per la visione Grazie.